Doppietta del Fezzano e vittoria degli Junior Graziotti, questi i risultati della decima gara della stagione che si è svolta ieri nelle acque di San Terenzo organizzata dalla Venere Azzurra. I primi a scendere in acqua sono i più giovani e a tagliare il traguardo davanti a tutti sono i ragazzi delle Grazie. Biagio Mori, Alessio Corsini, Gianluca Cecchia, Alessio De Gennaro e la timoniera Ginevra Bordine tornano infatti a vincere. Dopo il successo conquistato tre settimane prima a Fezzano l'equipaggio bianco-rosso trionfa superando la Spezia Centro e San Terenzo a seguire il Porto Venere che arriva prima di Fezzano, Canaletto e Fossa Mastra. Da segnalare come il Marola e il Cadimare siano stati costretti invece a ritirarsi dopo essersi scontrati al giro di boa dei 500 metri. Il Muggiano, presente, non ha invece partecipato alla gara perché un ragazzo ha accusato un malessere poco prima della partenza. Nella categoria femminile l'equipaggio del Fezzano è imbattibile e fa sua anche la terz'ultima prepalio. Alicia Grifogli, Marta Vannini, Sara Fonsi, Beatrice Nuzzello e il timoniere Jacopo Fortini battono le campionesse in carica del Fossa Mastra facendo salire a sei le medaglie d'oro conquistate in questa stagione. Sul podio c'è spazio anche per l'armo della Spezia Centro la cui crescita è sotto gli occhi di tutti. A seguire l'Erici che arriva prima di Muggiano, Porto Venere e San Terenzo. Nei senior è sempre il Fezzano a vincere. I Verdi conducono la gara in solitaria e collezionano il quarto successo stagionale. Leonardo Richiusa, Niccolò Pucci, Luca Castellani, Francesco Landi, Jacopo Fortini, il timoniere, ancora protagonisti e autori di una prova di grande valore. Dietro di loro, nove secondi più tardi, la Spezia Centro un equipaggio in netto miglioramento che supera di pochissimo il Fossa Mastra. A seguire Canaletto, Porto Venere, Venere Azzurra, Muggiano, Lerici, Cadimare, Le Grazie e Tellaro. Il Marola che avrebbe terminato la gara in 11.51.52 è stato squalificato. Domenica prossima sigareggia a Le Grazie è il penultimo appuntamento.